racconti di paura l'hotel stregato di giulia forever directioner vl c'era una volta una famiglia che andò in vacanza in un hotel ma non sapevano che quell'hotel era infestato da mostri i tre bambini martina fabrizio e giacomo entrarono da soli dal retro e appena entrarono scomparvero i genitori li cercarono ma dopo un giorno loro morirono anche loro e di questo hotel e di questa famiglia non è mai mai arrivata notizia ciao ragazzi bentornati 10 lol vi presenta la seconda parte dell'intervista esclusiva a ross lynch il protagonista di team beach movie il nuovo disney channel original movie una notte yuri con i dentini allargò le sbarre della sua gabbia uscì e arrivò fino al letto di giulia ciao ciao